Sono iniziate questa mattina le attività di ricerca da parte dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della protezione civile del 26enne scomparso da Rigutino, frazione alle porte di Arezzo da quasi due settimane e dallo scorso 26 maggio infatti che non si hanno più notizie del giovane. Dal giorno della scomparsa anche il cellulare del ragazzo non ha più dato segni di vita. La maxibattuta di oggi ha preso come riferimento l'ultima cella gangiata dallo smartphone del 26enne nei pressi del casello autostradale di Arezzo. Proprio in quest'area infatti si sono focalizzate le ricerche volute dalla prefettura di Arezzo che sta coordinando le indagini assieme ai militari dell'arma della stazione di Rigutino e del comando di Arezzo e i vigili del fuoco. Le ricerche al momento sono concentrate infatti tra il casello autostradale di Battifolle, Badia Alpino e Pieve al Toppo. Al momento gli inquirenti non escludono nessun ipotesi le ricerche sono partite a seguito della denuncia di scomparsa presentata dai genitori del ragazzo. Ovviamente la speranza di tutti è quella che si tratti di un allontanamento volontario. Il giovane è alto 1,80 m e dai capelli castani robusto con barbe e baffi. Al momento della scomparsa indossava pantaloni beige e una maglietta maniche corte. La sera del 26 maggio pare fosse uscito con gli amici ma non è più. Rientrato in casa e non ha lasciato alcun messaggio ai familiari così giorno dopo giorno cresce la prensione.